Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni in versione biblica apocalittica dice potete fuggire ma verrà il giorno del giudizio. Ma che succede? Sono questi paroloni così, il giorno del giudizio. E così dice la signora Meloni appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte per paura di essere sconfitta la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. E questo è assolutamente vero. La sinistra sta facendo di tutto per scongiurare il ritorno al voto. Ma sta nell'ordine delle cose nel senso c'è la Meloni che punta al voto perché è il primo partito e vuole capitalizzare il consenso sapendo che il consenso degli italiani non è a tempo indeterminato. E a tempo determinato gli italiani danno il consenso a un leader per un certo periodo e poi cominciano a cambiare leader. È successo a Berlusconi, a Renzi è successo a Salvini e questo andrà avanti perché è nell'ordine delle cose. Quindi la Meloni cerca di capitalizzare e vuole andare al voto subito. Salvini e Berlusconi che hanno dei partiti in caduta nei sondaggi a loro conviene rimanere al governo e cercare magari di raccattare qualche voto. Mentre la sinistra fa di tutto per evitare di andare a elezioni anticipate dove sembrerebbe ovvio che vada a perdere. Pertanto ci sono tre posizioni assolutamente legittime. È legittimo che Giorgia Meloni voglia andare al voto è legittimo che Berlusconi e Salvini vogliano rimanere al governo per raccimolare qualche voto in più è legittimo che la sinistra faccia di tutto per scongiurare il voto. Realmente ci sono ovviamente la sinistra ha sempre qualche aiuto ecco ad esempio non è nato mai il governo Salvini 1 perché Mattarella ha detto c'è Covid e non si vota anche se poi abbiamo votato per le regionali e le amministrative non si vota vi mando Draghi. Ecco la sinistra ha sempre un aiuto extra parlamentare vuoi il Presidente della Repubblica vuoi una parte della magistratura che vuoi giornali vuoi conduttori televisivi e tutto un mondo che gravita intorno alla sinistra che l'aiuta a scongiurare il ritorno al voto. Ma oggi c'è Draghi Premier con una maggioranza molto ampia le sue dimissioni sono state respinte ci sarà un voto di fiducia mercoledì la legislatura dura 5 anni le elezioni dovrebbero essere ogni 5 anni se c'è ancora una maggioranza come c'è perché col decreto legge aiuti si è visto che comunque Draghi ha un'ampia maggioranza è molto probabile che venga anche cambiato Draghi e messo magari un altro tipo Franco il Ministro dell'Economia per dire la maggioranza c'è deve andare fino a fine legislatura e su questo non si può dire niente perché se c'è una maggioranza parlamentare e una legislatura dura 5 anni anche se chi magari è lì non è stato eletto non è stato voluto dal popolo però c'è una maggioranza parlamentare e su questo non si può fare nulla la Meloni dice possono fuggire quanto vogliono arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti con il il giorno del giudizio faranno i conti con il giudizio degli italiani a corredo del post la foto di Enrico Letta identificato come il capo di questo partito sotterraneo antivoto e la frase le stanno tentando tutte pur di evitare di tornare al voto per paura di una sonora sconfitta sì è vero Letta sta alimentando un partito sotterraneo antivoto ma neanche tanto sotterraneo lo vedo completamente alla luce del sole per evitare di andare al voto è di dover perdere le elezioni ma quello che sta facendo la sinistra non è illegale e fa parte dei giochi della politica insomma come vi dicevo prima c'è chi vuole andare al voto c'è chi vuole rimanere al governo e pertanto sono e questa è la politica è fatta è fatta così nelle ore precedenti la signora Meloni aveva duramente attaccato anche l'appello dei sindaci prodraghi dicendo che negli ultimi anni nonostante la fase delicata molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni lo trovo assurdo io una risposta a questa domanda ce l'ho voi sapete che io vi dico quello che io penso che sia corretto e sia vero perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni perché sta nei giochi politici c'è chi vuole elezioni e chi cerca di impedirle il dato di fatto è che c'è un governo che ha una maggioranza molto ampia questa è la realtà in questo governo c'è la Lega c'è Forza Italia 5 Stelle PD insomma per andare alle elezioni ci dovrebbero essere ci dovrebbe essere uno o più partiti che si staccano e allora non c'è più la maggioranza ma finché c'è una maggioranza il governo va avanti fino a fine legislatura si fa di tutto pur di impedire le elezioni la Meloni dice in tutto il mondo si sono andati tranquillamente al voto però la Costituzione dice che il voto è ogni 5 anni e se c'è una maggioranza che sostiene il governo nei 5 anni si deve andare fino a fine legislatura capisco che Mattarella abbia mandato Draghi al posto che fare il voto anticipato ma era nei suoi poteri non ha fatto niente che sia illegale ci mancherebbe altro non c'è nulla di illegale ci sono partiti che vogliono impedire le elezioni anticipate cioè tutti tutti i partiti vogliono impedire le elezioni anticipate anche gli pseudo alleati della signora Meloni Salvini e Berlusconi tutti vogliono impedire le elezioni ma questo tentare di impedire delle elezioni è fatto in maniera assolutamente legale non c'è illegalità nel non andare al voto anticipato il voto anticipato è nel caso non ci sia più una maggioranza quindi anche il governo Draghi nasce perché c'è una maggioranza legittima non c'è niente di illegale dal 2018 ad oggi non c'è nulla di illegale sono tutti giochi politici quindi io lei dice lo trovo assurdo non è assurdo è la politica questa è la normale politica che c'è nel nostro paese non c'è niente di assurdo c'è chi vuole le elezioni c'è chi non le vuole ma aggiunge che nella tempesta il bisogno del capitano scelto dall'equipaggio con una rotta è una meta basta con l'accanimento terapeutico di questo parlamento e con i governi che non raggiungono i risultati però io vi ricordo che finché c'è una maggioranza c'è governo quando un giorno non ci sarà più una maggioranza magari mercoledì allora il presidente della repubblica prenderà delle decisioni che saranno assolutamente legali non illegali ma assolutamente legali discutibili sì ma legali grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti